Ciao, ciao, sono Sonia Varoli e oggi faccio questo video per lasciare la mia testimonianza su Autority. Io sono veramente entusiasta e ti racconto un po' di me e di quello che è stato il mio percorso. Io ho cercato di trovare un modo che mi permettesse di avere una mia strategia, un mio posizionamento per quello che era la mia professionalità in ambito di benessere naturale e terapie alternative. Ho iniziato facendo dei percorsi che anzitutto mi dessero competenze in quello che è l'utilizzo degli strumenti del mondo digitale e poi pian pianino sono arrivata anche a quello che è il creare un mio posizionamento e Fabio in questo è stato un po' la chiave del mio percorso e di quello che è comunque un percorso in divenire perché io mi ritengo ancora in una fase esponenziale in cui sto passo passo creando quella che è la mia realtà e il mio posizionamento. Sono felicissima perché Fabio Gallerani in questo percorso di Autority veramente condivide un passo passo quello che è un percorso di crescita dove veramente cambia la visione, la percezione di se stessi come professionisti e di come porsi poi all'utente, all'utente finale che poi è la nostra interfaccia professionale. Io inizio ad avere i primi risultati e questo è veramente una gioia per me. Condivido conoscenze, formazione in ambito di benessere naturale, aromaterapia, iurveda, il mondo listico e pian piano sto creando quella che è la mia nuova realtà. La cosa che mi piace è condividere, anche il concetto che a me è capitato questo, penso anche ad altri possa succedere questo e la mia testimonianza può essere d'aiuto. Io, come posso dire, il mio valore, le mie conoscenze le avevo già, ma non avevo il mindset e neanche la modalità adeguata per comunicarlo all'altro, all'utente e il saper comunicare nel modo adeguato, il saper porsi nel modo adeguato è veramente il tassello più importante perché devi essere un professionista con delle competenze e devi sapere utilizzare strumenti o comunque avere una conoscenza degli strumenti che ti permettono la visibilità nel web, ma poi puoi avere tutti questi, ma se ti manca l'ultimo tassello che è proprio quello che Fabio nell'Authority mette a disposizione dei professionisti che si approcciano alla sua formazione e se ti manca quello magari crei strumenti, crei tante cose ma poi rimani nell'anonimato proprio perché non hai attuato quelle strategie chiave che sono veramente il salto di qualità che puoi fare. Quindi consiglio veramente a tutti di darsi l'opportunità e di andare al next level e entrate in authority. Fatelo per voi stessi, ve lo meritate, quel tassello in più per veramente raggiungere l'obiettivo. Ringrazio veramente tantissimo Fabio. Racconto questo aneddoto quando Fabio è uscito col suo corso Authority e io veramente l'aspettavo, me l'aspettavo da tempo e l'ho preso senza neanche andare a vedere cosa c'era scritto perché so il valore che Fabio condivide e mi ha già seguito sia in altri percorsi personali col mentor program e con i miei progetti e veramente il valore che condivide è di una validità che non si trova in giro in Italia. Grazie mille Fabio. Ciao a tutti. Ciao.